Sì, manca giustamente una sedia. Nel frattempo, intanto accomodatevi pure, facciamo accomodare Chiara Listo, Morgan, Giuseppe Vitale, Gabe. Nel frattempo, intanto accomodatevi pure, poi farò tipo conduttore. Sono gli inconvenienti, ci sono tante iniziative, ecco che sta per arrivare una sedia. E intanto grazie anche a tutti i ragazzi dello staff di Sandonà Fumetto che stanno lavorando alla cremente per questa edizione. Grazie mille, grazie. Grazie. Eccoci qua. Allora. Abbiamo delle sedie. Adesso abbiamo una sedia, Chiara vieni pure davanti così ti possono ammirare. Allora, intanto vi presento, beh, come accennato, è un duo che si occupa proprio di divulgazione dei giochi di ruolo, di questo mondo, di questa cultura e di tante curiosità. Molto brevemente, Chiara è nata il 22 aprile 1991 e Giuseppe invece il 26 dicembre 1990. Sono entrambi di Siracusa, quindi siciliani. Dopo il liceo classico si sono laureati all'Università di Catania in lettere e filosofia e adesso stanno ultimando la specialistica all'Università di Bologna, dove attualmente risiedono. Sono appassionati di letteratura di ogni tipo, di giochi di ruolo, di narrazione, di cinema e di teatro. Beh, cominciamo dalla domanda più semplice. Come vi siete conosciuti? Ok, allora, ci siamo conosciuti all'Iteo. Compagni di scuola, insomma. Compagni di scuola, sì. Durante un'occupazione studentesca. Molto anni settanta, effettivamente, come cosa, però... Eh, in effetti. Ci abbiamo messo circa un anno e mezzo prima di uscire insieme. Un anno e mezzo, quindi c'è stato un po' di attesa, di corteggio. E poi niente, siamo rimasti così, sono dieci anni che stiamo insieme. Che è stato a corteggiare chi? L'ho inseguita per... Ah, lungo inseguimento. Beh, entrambi appassionati di giochi di ruolo, quindi vi univa già comunque questa passione, suppongo, sin dai tempi della scuola. Praticamente sì. Lui... Trofano più vicino. Più su? Ok. Così ti sento. Va bene. Allora, lui giocava già i giochi di ruolo da tavolo. Io invece ho cominciato con i play by forum, i giochi di ruolo via forum, un'era geologica fa, con un forum di vampiri. E quindi... Io ero contentissimo di sapere che c'era una ragazza che era interessatissima a giocare di ruolo. C'era la ragazza perfetta, bella e pure appassionata. Quando mi ricapita. Eh, l'ideale, fortunato, complimenti. Ma singolarmente in famiglia come vedevano questa vostra passione per i giochi di ruolo, intendo? Per me senza farsi particolari problemi. Lo consideravano un hobby come un altro, senza mai discuterne. Credo che non abbiano ancora capito che cosa faccio effettivamente, quindi va bene così. Tu invece Chiara? Credo che per molto tempo siano stati convinti che io facessi teatro, qualche tipo particolare di teatro. Da quando abbiamo aperto la pagina però si sono interessati molto di più e hanno chiesto se in questo gioco c'erano dei vincitori o cos'altro. Quindi insomma avete un po' contagiato le famiglie. Però prima di parlare del vostro duo, delle vostre pubblicazioni, ho rintracciato una notizia che è un altarino. Voi avete pubblicato dei romanzi. Una breve accenno a questi romanzi. London Calling, A Tale from Norwich, pubblicato da Prospero Editore. E nel 2013 London Calling, End of an Ira. Per la collana fantastica, sempre dell'editore Nulla Di E. Di cosa parlano e come vi siete trovati in questo ruolo o da dove è nata l'idea di scrivere un romanzo insieme? Parli tu o parlo io? Parla tu. Beh ecco, sono delle storie che abbiamo creato, sono romanzi di narrativa, steampunk. Li abbiamo pubblicati con due editori diversi. Il primo Tale from Norwich in ebook, il secondo invece è arrivato in libreria. È stata un'esperienza interessante, per la quale però non siamo stati molto gratificati. Anche perché non riuscivamo a vendere i nostri prodotti o a comunicare la nostra passione per la letteratura, pur essendo grandissima. Con i giochi di ruolo c'è nata meglio, devo dire. Il genere cos'era? Steampunk Horror. Era narrativa proprio da Penny Dreadful. Quindi c'è l'eventualità un giorno comunque di riprendere in mano un romanzo? Per adesso non abbiamo in programma niente del genere, in futuro non possiamo sapere. E nel frattempo avete continuato, intanto sviluppato la vostra passione per i giochi, i giochi di ruolo. Ecco, voi avete fondato il duo Morgan Gabe, protagonista proprio di questo incontro, ma prima avevate già comunque fatto recensioni degli articoli. Io per esempio ho trovato un articolo sulla rivista Fra le righe, tuo dichiaro. Quindi vi eravate già comunque un po' esercitati nelle recensioni, nel ruolo di quasi giornalisti. Allora, abbiamo cominciato con la rivista Fra le righe, con un'altra rivista che si chiama Ripensandoci. E parlavamo prettamente di narrativa, quindi di romanzi e anche di cinema e serie tv. In seguito abbiamo iniziato a scrivere per GDR Players, che è una piattaforma che si occupa di far trovare gruppi sparsi per l'Italia e vari giocatori di ruolo. L'admin ci aveva chiesto di scrivere degli articoli per lui. E poi abbiamo cominciato le varie collaborazioni, da lì è nato tutto. Finché poi nel 2017, quindi recentemente l'anno scorso, avete dato il via al duo Morgan-Gabe. Quindi Chiara e Morgan e Giuseppe Gabe. Perché Morgan-Gabe? Beh, allora, è una storia abbastanza buffa, anche perché noi non avevamo pensato a un nome di battaglia o qualcosa del genere. Come dicevi tu, la pagina nasce nel 2017 e nasce praticamente per caso, quando ho detto a Chiara, ma sai, scriviamo su un sacco di riviste, mettiamo tutto insieme così che chi ci segue trovi tutto. Come ci possiamo chiamare? È Morgan-Gabe, il nick che utilizzavamo su altre piattaforme in cui scrivevamo, quindi rinuovo la scrittura qui. Deriva dal Morgan-Gabe, un noiosissimo istituto di diritto Longobardo, praticamente era quel dono che il guerriero Longobardo faceva alla sua compagna come controdote il giorno dopo il matrimonio. Era una sorta di modo per appianare e pareggiare la relazione e quindi abbiamo deciso Morgan-Gabe perché siamo alla pari e via. Qual è quindi l'obiettivo di Morgan-Gabe, cioè su cos'è, che puntate in particolare? Sul divulgare il gioco di ruolo, sul divulgare tantissimi giochi e sul far conoscere a più persone possibili la nostra passione. Di giochi di ruolo c'è qualche tipologia in particolare o a 360 gradi? La nostra tipologia inizialmente è stata parliamo di tutto ciò che suscita il nostro interesse, di tutto quello che troviamo particolare, di tutto quello che ci piace e ancora continuiamo così a parlare di ciò che ci piace. Sì, anche perché è inutile sforzarsi di parlare di qualcosa che non ci piace o con cui non ci troviamo, bisogna parlare delle cose belle, delle cose che ci interessano, soltanto così si può mettere l'entusiasmo e la passione che serve. Quindi l'entusiasmo alla base del vostro successo perché siete un duo esattamente da circa un anno però avete raccolto già molti consensi, proprio perché siete anche apprezzati per lo stile con il quale proponete le vostre impressioni, le vostre recensioni, è stata proprio una scelta precisa quella di porvi in questo modo? Più che una scelta precisa è il modo in cui noi comunichiamo, infatti non ti neanche scondo che sono un po' in imbarazzo di essere sul palco invece che giù in mezzo alle persone, preferisco parlare con le persone e credo che questo valga anche per chiaro, come se fossimo intorno a un salotto oppure insieme a un tavolo al bar e così via rispetto che in maniera simmetrica. Un tono amichevole quindi, quali sono i criteri con i quali valutate un gioco? Cos'è che cercate di evidenziare, di valorizzare e poi come in base a cosa li promuovete o bocciate? Allora, come abbiamo detto prima, non abbiamo mai, e penso non parleremo mai di un gioco di ruolo che non ci sia piaciuto sulla nostra pagina, quindi se leggiamo un gioco, se questo gioco ci piace allora troverà spazio su Morgangabe. Cerchiamo di soffermarci sempre, proprio sul fattore che ti dicevamo prima che è quello del nostro entusiasmo, sulle parti del gioco che ci sono piaciute di più, quindi se per esempio di un gioco, faccio un esempio, abbiamo apprezzato tantissimo l'ambientazione, allora porremo tanto l'accento su quello perché vogliamo trasmettere la voglia di provarlo che abbiamo provato noi. Quindi il punto di forza del gioco, quello che per voi è il punto di forza. Quello che per noi è il punto di forza. Poi date anche proprio poi dei consigli anche su come approcciarsi sia nel ruolo di narratore che di giocatore, ma qual è un consiglio che può valere in generale secondo voi? Allora, ci abbiamo pensato, qual è il consiglio che daremmo a chiunque voglia giocare di ruolo con altre persone? Siate empatici, siate pronti ad ascoltare gli altri, siete pronti a capire cosa piace agli altri oltre a quello che piace a voi. Questo funziona sempre, anche nella vita, ma nei giochi di ruolo è perfetto. Soprattutto rendersi conto che non esiste un gioco di ruolo perfetto, ma esistono tanti giochi di ruolo, è un mondo completamente da scoprire, ogni giorno ne vengono pubblicati di nuovi. E il trucco è proprio questo, non pensare mai di essere arrivati, non pensare mai di conoscerli tutti. Certo, ecco spero di non ripetermi, ma ci sono, dicevamo, comunque varie tipologie di giochi di ruolo, quindi narrativi, tradizionali. Ove qual è che preferite maggiormente? Allora, i giochi a noi piacciono tutti, poi ci sono singoli giochi che ci piacciono di più di questa o quella corrente. Ed è difficile dire, quindi, qual è il tipo di gioco che ci piace di più. Molti ci hanno associato ai giochi di ruolo narrativi, che poi è una di quelle cose che non vuol dire niente, è una di quelle parole etichette che non hanno un vero significato. Ma noi abbiamo cominciato parlando di questi giochi di ruolo, tra virgolette, narrativi, soltanto perché erano quelli che ci attiravano in quel momento e lo facevano in pochi. Mentre per esempio Dungeon & Dragons ha tanti grandi influencer che lo trattano alla grande, quindi perché farlo anche noi? Certo, voi siete su vari canali, poi approfondiremo meglio anche questo discorso. Avete creato una specie di TG, il TG Morgan Gave, come l'avete impostato? Allora, il TG di Morgan Gave, ieri abbiamo fatto il quinto, è una diretta su Facebook per adesso, poi stiamo pensando di spostarci su Twitch, su altre piattaforme in futuro. Lo impostiamo parlando degli argomenti più caldi della settimana nel mondo del GDR. Quindi tutti gli argomenti che sono stati dibattuti, di cui si è parlato, una parte tutta dedicata ai Kickstarter che ci hanno colpito e quelli più importanti, chiaramente. Diamo tutte queste informazioni per mantenere tutti aggiornati su quello che succede nel nostro hobby. Quindi voi avete la pagina Facebook, un gruppo Facebook e avete aperto anche un canale Patreon di recente. Sì, abbiamo aperto un Patreon di recente, ci sono delle persone che tengono al nostro lavoro e ci aiutano a sostenerci in modo che noi possiamo rientrare delle spese, perché praticamente l'algoritmo di Facebook è molto punitivo. Grazie a chi ci sostiene e a quei 4 euro che prendiamo possiamo riuscire a sponsorizzarci, a mostrarci, ad arrivare a persone che normalmente non ci raggiungerebbero. Purtroppo dobbiamo anche fare delle scelte di social media marketing per riuscire a raggiungere le persone che vorremmo e Facebook ti punisce quando cresci. Invece la pagina pubblica, il gruppo di Facebook, in cosa si differenziano? Allora, nella pagina pubblica parliamo in generale dei giochi che leggiamo, prepariamo dei video e delle dirette come per esempio il Tg, in cui discutiamo di vari argomenti. Nella pagina Patreon, per chi ci sostiene, mettiamo da scaricare i nostri giochi, perché abbiamo scritto due giochi, ma ancora sono molto da playtestare, quindi non è niente di definitivo. E poi creiamo dei contenuti speciali, organizziamo una volta al mese delle giocate con i nostri Patreon. Ecco, sono eventi online questi, però proponete anche degli eventi dal vivo a Bologna, ci sono due appuntamenti, due volte al mese organizzate il gioco di ruolo, il GDR al buio, proponete ogni volta dei giochi diversi che vengono rivelati all'inizio dell'evento, quindi c'è anche un effetto suspense e sorpresa. Parlateci un po' di questa iniziativa e come si può partecipare. Intanto lo hai spiegato meglio di me che cosa è l'iniziativa, quindi non c'è molto altro da dire. Noi facciamo il GDR al buio, che non è un'idea soltanto nostra, ma anche di Daniele Fusette ed Edoardo Cremaschi, che sono i creatori originali, ora il brand è sia nostro che loro. Questa iniziativa è in tante città d'Italia, da Palermo fino a Milano, passando per Bologna, Pavia e così via. Quello che vogliamo fare con il gioco di ruolo al buio è fare sedere delle persone che hanno curiosità riguardo ai giochi e magari non ne conoscono abbastanza e presentarli sempre a prodotti diversi, in modo che possano farsi un'idea a tutto tondo di quello che è il mondo del gioco di ruolo. Come si ci può prenotare, ogni volta che esce un evento, si può scrivere che si vuole partecipare, si scrive il giorno in cui si vuole partecipare e si può andare tranquilli. È gratuito, vogliamo che non ci sia nessuna barriera e che chiunque, al di là delle sue possibilità economiche, possa giocare e partecipare. Insomma, chi partecipa al buio non ha bisogno né di avere il manuale, di entrare manuale in mano, né di preparare la scheda prima, ma formula del buio è proprio entri, ti siedi e giochi. Non hai bisogno di portare niente. Un'iniziativa molto simpatica e state entrando anche su YouTube, avete aperto un canale anche lì, quindi come fate a gestire tutti questi social, questi canali? Ci mettiamo tanto tempo, non è facile. Cerchiamo sempre, allora cercare sempre di proporre contenuti interessanti, ammetto che non è mai semplice e quindi dobbiamo attenzionare tantissimo ogni contenuto. Però ha dato soddisfazioni, tante soddisfazioni e quindi direi che anche la spinta di chi ci segue, di chi ci sostiene ogni giorno, ci dà la voglia di andare avanti, che se no, secondo me, non avremmo avuto. Esistiamo per i nostri fan, per le persone che ci seguono, se no probabilmente avremmo smesso. Avremmo continuato a giocare. Ecco, ma adesso che comunque avete una certa responsabilità, perché comunque recensite, divulgate questa cultura, come vivete i giochi? Cioè, sempre con una passione anche un po' ingenua, rilassata, oppure avete una certa, sentite di avere una certa responsabilità, poi quando li recensite? Allora, ogni tanto qualcuno ci dice, ah, ma voi siete influencer, poi abbiamo 1500 mi piace, figurati, altro che influencer. Qua ho intervistato gente che ne ha 600.000 poco fa. Ma comunque no, io personalmente non sento questa responsabilità, sento che quando gioco un gioco devo godermelo e capire cosa mi piace o cosa non mi piace. inutile pensare prima a questo gioco, devo darle un giudizio politico, oppure no. Do, dico quello che penso e via, no? Ci piace, questa è una responsabilità che invece sentiamo, dare sempre le fonti di quello che diciamo. Se noi parliamo di una qualche teoria sui GDR, ci piace postare le fonti di chi l'ha detto, perché comunque divulghiamo in questo senso e vogliamo che tutti conoscano quello che conosciamo noi, per mettere tutti sullo stesso piano, noi e loro. Questa è la differenza tra il guru e il divulgatore. Il guru vuole essere l'unica fonte della tua conoscenza e il divulgatore vuole che potenzialmente tutti possano sapere tutto. Ecco, per esempio, che consiglio dareste a uno che si avvicina per la prima volta ai giochi di ruolo? Da dove sarebbe più conveniente, più facile partire? Non esiste, secondo me, e penso anche secondo Giuseppe, un gioco starter giusto. Io consiglio semplicemente di, sicuramente tutti abbiamo un'idea di quale genere ci piace, di quali tematiche ci piacciono, in qualsiasi altro media, in un film, in un fumetto, in un libro. Io consiglio di partire dal genere e dalle tematiche che piacciono di più, quindi cercare un gioco del genere. Un'altra cosa, molte persone ci dicono, ma come faccio a convincere i miei amici a giocare di ruolo? Se non vogliono, lasciali perdere. È giusto che tu con i tuoi amici ci giochi a calcio, ci esci la sera e così via, ma è inutile che cerchi di inculcarli a forza, la tua passione. Cerca persone che abbiano questa passione. Esatto, al limite fare altri amici con la stessa passione. Ci sono molte piattaforme che si occupano proprio di mettere sui gruppi. Anche perché, esatto, si discute proprio del gioco di ruolo anche come uno strumento proprio per socializzare, per avere degli benefici anche dal punto di vista psicologico, sociale. Voi siete quindi ovviamente d'accordo. Assolutamente, assolutamente. Il gioco ha una forte valenza sociale, il gioco ti aiuta a socializzare e in alcuni casi, non con noi, ma con persone professioniste di un determinato mestiere, può anche aiutare persone con determinate patologie, soprattutto sociali, sferi dell'autismo e così via. Nello specifico c'è qualche gioco che vi ha colpito, che ricordate maggiormente, o magari che è proprio il vostro preferito? Allora, io non ho un gioco preferito, ne conosco tanti, non tutti, ma tanti. Più ne conosco, più penso, oddio... Immagino ne avrai anche tanti. Abbiamo una bella libreria, ma conosciamo molte persone che ne hanno più di noi, quindi ancora li dobbiamo catturare. Più o meno, quanti ne avrete ormai? Allora, credo in libreria circa una sessantina. In PDF un centinaio. Contiamo entro la fine dell'anno di riempire tutta la libreria. Però, un'ammissione. Abbiamo giocati tutti, non abbiamo giochi che non abbiamo giocato. Tra giochi stranieri, giochi italiani, che differenza notate se c'è? Domanda difficile. Considera che la cultura dei giochi di ruolo in Italia arriva un po' in ritardo rispetto al resto del mondo, ma comunque rispetto all'Inghilterra e all'America soprattutto più che al resto del mondo. Ma comunque abbiamo grandi game designer, anche qui oggi il livello dei prodotti che escono in Italia non ha nulla da invidiare al livello dei prodotti che escono in America. Cambia la diffusione, soprattutto quando il prodotto è solo in lingua italiana, ma questo è inevitabile. Quindi noi siamo un po' indietro, però hai notato un cambiamento nella considerazione di questo genere dei giochi? Diciamo che da qualche anno, probabilmente, grazie a dei media che parlavano di cultura nerd, i nerd, tra virgolette, quelli che si interessavano ai giochi di ruolo, che si interessavano ai fumetti e così via, sono andati molto più di moda di prima. Adesso abbiamo... Anche i social hanno contribuito. Molto, hanno contribuito al fiorire di tantissime pagine influencer che parlavano di questa cultura. Proprio dopo questa fioritura, il gioco di ruolo ha potuto contare tantissimi altri titoli in più ed è stato molto più diffuso. Ci sono anche più giocatori e soprattutto grazie ai video di gameplay che sono disponibili su internet, su moltissimi canali e che parlano di tutti i tipi di giochi, dai DJI, ai GDR Rangers, aggiu lo schermo e così via. Hanno abbattuto una barriera molto importante. Prima le persone avevano bisogno di andare in fumetteria guardando qualcuno che giocava. Ora invece è facile andare su internet, se si è curiosi, e cercare come si gioca, che cos'è un gioco di ruolo e questo abbatte molto le barriere e poi lo puoi ripetere, puoi guardarlo. Certo. Qui a San Donato Fumetto ci avete portato dei giochi. Vogliamo un po' presentarli, spiegarli, perché poi sarete proprio a disposizione per farli conoscere, per far giocare i nostri ospiti. Allora, io domani porterò due giochi. Lovecraft Task di Joshua Fox e Becky Harrison, edito in Italia da narrativa, che è il gioco di ruolo vincitore del premio gioco di ruolo dell'anno 2018. Infatti ha battuto addirittura D&D, una cosa che non è mai successa. Come mai, secondo te? Possono esserci un milione di ragioni che io non conosco. Sicuramente è la prima volta che un gioco di ruolo in cui le autorità narrative, appunto l'autorità del master, varia da giocatore a giocatore, perché Lovecraft Task è un gioco in cui il narratore cambia di scena in scena e ruota al tavolo. Vince il premio gioco di ruolo dell'anno. È qualcosa che sicuramente porterà dei cambiamenti. Quindi questo è Lovecraft Task. Lovecraft Task. Ha detto due giochi. L'altro? L'altro è The Quiet Year, ancora non edito in italiano. È il gioco di Avery Alder, una bravissima designer che ammiro molto, autrice di Cuori di Mostro 2. C'è Giuseppe? Io invece porto B-Movie, che è della Helios Game, uno dei finalisti del gioco di ruolo dell'anno di quest'anno. Poi porterò anche The Grind, non lo so neanche io. È un gioco su Mad Max. L'ho scelto perché è figo. Tutto qua. Quindi questi immagino siano i giochi che vi hanno anche maggiormente colpito negli ultimi tempi. Ce ne sono altri che volete ricordare e che volete menzionare e anche suggerire. Allora, sicuramente un gioco che mi ha colpito moltissimo è Bluebirds Bride. È uno di quei giochi che non sono nati per divertire, ma per far pensare. Prende spunto dalla fiabba di Barba Blu e delle sue mogli per parlare di tematiche forti come l'abuso. Giuseppe? Allora, io questi due giochi li ho portati perché li trovo molto semplici e molto interessanti. Raccontano esperienze diverse ed è molto facile. Sono molto di facile approccio. Però ti devo dire due giochi che consiglierei a chiunque. Consiglierei Cani nella vigna. Un'esperienza fortissima. Un gioco in cui puoi decidere della vita e della morte, delle altre persone e poi quello che fai sarà specchio di ciò che sei davvero. Consiglierei anche Apocalypse World perché il gioco cacerone per eccellenza in cui in questo mondo post-apocalittico distruggi tutto. Insomma, quale giocatore di ruolo non piace girare per lande desolate e sconfiggere i nemici? Se vuoi fare esplodere le lande desolate. O un debole per i giochi in cui fai esplodere le cose. Insomma, non resta che venire quindi qui a Sandona Fumetto per conoscervi e giocare con voi altrimenti ricordiamo Morgan Gabbe su Facebook con la pagina pubblica il gruppo, il Patreon e poi anche il canale YouTube. A questo punto farei un applauso e ringrazierei per la presenza quindi Chiara Morgan e Giuseppe Gabbe. Grazie per essere con noi. Grazie a te e grazie a voi. Grazie a voi e grazie al nostro ospite.